Buongiorno a tutti e bentornati a Quotidiano TV del 27 gennaio. Iniziamo con la prima notizia. Problemi per la metropolitana 1 con conseguenti disagi per i cittadini nella mattinata del 27 gennaio a Milano. Dall'inizio del servizio la circolazione dei treni e della linea rossa è infatti sospesa tra le stazioni di Gambara e Bisceglie. A causare il problema, secondo quanto riferito da ATM, è stato un grave guasso di un mezzo, causato dalla scarsa manutenzione dei binari. Un piccolo aereo da turismo Piper è atterrato alle 12 allo scalo milanese di Linate senza carrello. Illesi i quattro passeggeri. L'aereo è rimasto fermo sulla pista. I voli sono stati sospesi fino alle 13.30 quando l'attività dell'aeroporto è ripresa in maniera regolare. Finalmente la tangenziale di Varese potrà essere utilizzata. Presidente, oggi è una giornata storica, l'inaugurazione di un'infrastruttura importante. Sì, la pedemontana, la mitica pedemontana di cui si parlava da decenni, parte oggi, viene messa in esercizio. Il primo tratto, la tangenziale di Varese, lunedì la tratta A, a luglio la B1, prosegue, poi quella di Como e poi tutte le altre. Vogliamo completarla. È una giornata storica perché finalmente c'è una cosa concreta. Sono molto soddisfatto. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, i miei predecessori, gli operai e le imprese che hanno dato vita a quest'opera. Oggi è una giornata di grande festa. Siamo riusciti ad avere anche il sole. Meglio di così davvero non si poteva fare. Si prepara al meglio anche ad Expo? Sì, beh certo. La mobilità in regione, anche in vista di Expo, è fondamentale. Il migliorare l'accesso ai territori significa migliorare la competitività dei territori. Sono investimenti importanti che noi facciamo, nonostante le polemiche, perché c'è sempre qualcuno che dice che non è d'accordo, ma servono sì e quindi le faremo. Nella mattina del 26 gennaio, poco dopo alle 9, è scoppiato un incendio in pieno centro storico a Crema. In fiamme il sottotetto è la copertura di un palazzo di fiafra e cavalli. In pochi minuti sul posto sono giunti due squadre del Vigi del Fuoco, una volante della polizia e diverse pattuglie della polizia locale. In fase di quantificazione la montare dei danni. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Nei primi accertamenti pare che il rogo sia dovuto al surriscaldamento della canna fumaria. Un camion per intrasporto del latte è finito fuoristrada intorno alle 10 di lunedì 26 gennaio sulla provinciale Bergamena. Illeso l'autista, disagio al traffico causati dalla temporanea chiusura della provinciale e l'istituzione di un senso unico alternato. Ad occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della polizia locale di Rovalta d'Adda. Tentato furto al cimitero comunale di Pandino. I ladri puntavano al rame delle pluviali delle coperture delle capelle gentilizie, ma non trovando il materiale che cercavano se ne sono andati senza rubare nulla. È successo nella notte tra sabato e domenica. I ladri per entrare nel cimitero hanno sfondato il cancello di entrata, probabilmente con un camion o con un furgone. Dopo la guerriglia a Cremona sentiamo le opinioni dei cremonesi. Un po' di apprezzione c'è, ma ormai il peggio è passato. In teoria ce ne sono delle cose che finiscono alla teoria e non alla pratica. I nostri governanti sono maestri in quello. E allora è inutile star lì a continuare a parlare e non concludere mai niente. La paura è la ciappata. Hanno fatto un po' di danni, quello che si tende a dire, e tutto il resto è così. Le cose giuste non si fanno così, le cose giuste. Però ogni tanto ci vuole anche un po' di questo. Che se hanno la faccia pulita non si mascherano come hanno fatto loro. Ecco, e questo è un corteo che non è pulito. E' stato sbagliato perché non ha risolto niente questa cosa. Se doveva essere una manifestazione pacifica hanno distrutto praticamente tutto senza risolvere niente. Ma io ho fatto un diretto per il corso, sembrava essere i tempi di guerra, tutto buio, tutto blindo, non so, i negozi, tutto chiuso, tutto. E' allo sbando perché non riesce a capire come mai hanno permesso questa manifestazione. Pur sapendo lo spiegamento di forze e quindi già con l'intenzione di voler fare guerriglia. Dovevano non farla questa manifestazione. Io sono un pensionato, do un aiuto a una mia collega dove ero in un negozio di frutta e verdura. Ma semplicemente è stato chiuso nel centro storico come tutti quanti gli altri cremonesi che hanno chiuso. Tutti i negozi erano chiusi. Mi sembra che era già palese che si doveva dire qua non apriamo perché c'è la guerra oggi. Trescore Balneario è sotto shock per la morte improvvisa di Luca Squarati, 34 anni, che dal giugno del 2013 era agente di polizia locale del capoluogo della Valcavallina. E' morto per un malore nella notte tra il 25 ed il 26 gennaio. Tutti pensavano si trattasse di un'influenza passeggera. Nella mattina del 27 gennaio è stata effettuata l'autopsia all'ospedale di Esine dove è stata trasferita la salma. La coppia si è concentrata sulla colonnina accanto all'autolovaggio e sembra utilizzando una calamita e due grossi cacciaviti ha afferrato un bel po' di monetine. A stupire lo stesso titolare della piazzola di Via Moroni a Bergamo, tra l'altro già più volte derubato ma in passato sempre di notte, il fatto che i due abbiano agito indisturbati in pieno giorno, lungo una terea non certo deserta, nella domenica del pomeriggio. E' l'anniversario per i 130 anni della Bianchi. Difficile condensare 130 anni di storia della prestigiosa Bianchi. Da ricordare nomi come Fausto Coppi, Felice Gimondi e Marco Pantani. Oppure numeri come 12 giri d'Italia, 3 tour de France e 5 mondiali. Raccontano molto di quelle realtà che da Treviglio fa pedalare oggi milioni di appassionati in tutto il mondo. Fondata a Milano nel 1885 da Edoardo Bianchi, la celebre casa produttrice di biciclette compie 130 anni e per quest'anno, in coincidenza con l'anniversario, prevede di incrementare il numero di biciclette che usciranno dallo stabilimento della Bassa, da 18.000 a 22.000. A Treviglio la Bianchi è arrivata nel 1960 e ha dato vita a eccezionali traguardi raggiunti negli anni. Grandi soddisfazioni nel 2015 arriveranno grazie alla grinta e alle nuove innovazioni che diversi managgimenti e addetti hanno realizzato con la passione di pedalare su una bicicletta piena di storia. Barista cinese aggredita e pestata da due agenti della Polizia Penitenziaria fuori servizio. L'incredibile episodio su cui stanno indagando i carabinieri è avvenuto in un bar di Via Capra a Pecenza all'alba di domenica 18 gennaio. Sando una prima ricostruzione dell'accaduto, i due agenti si trovavano all'interno del locale tra le 5.30 e le 6 in stato di ebrezza. Il caos sarebbe nato quando i due avrebbero tentato di uscire dal bar senza pagare le consumazioni. Al momento i due agenti di 38 e 33 anni risultano indagati per lesioni, minacce e per ubriachezza. Quattro anni e mezzo di reclusione, 1.500 euro di multa e un risarcimento provisionale di 7.500 euro. È la pena inflitta per rito abbreviato dal GIP di Lodi ad un 43enne residente a Reggio Emilia arrestato dai carabinieri a metà agosto in fragranza di reato di estrusione. Aveva appena incontrato un operatore delle pompe funibri conognese consegnandogli 1.400 euro in banconote da 50 ai 100 euro e che erano state precedentemente fotocopiate e segnate dai militari della compagnia di Codogno. A Lodi i primi test per il nuovo sistema di allarme per le alluvioni. Nuovo sistema d'allerta in caso di alluvione a Lodi. Nel fine settimana i primi test dove il broletto chiama direttamente a casa i cittadini per mettere in guardia sull'esondazione del fiume Adda. Alcune telefonate sono già partite ma sono più di 8.000 i numeri di telefono fissi registrati nel lodigiano tramite un software che è stato messo a disposizione dal comune di Lodi dalla ditta Alert System. Moltissimi lodigiani al quale è già spillato il telefono e alzando la cornetta hanno potuto sentire la voce registrata dal sindaco Simone Ugetti che presenterà il servizio. Per essere informati in tempo reale è possibile anche scaricare un'applicazione sul proprio cellulare oppure fornire all'ufficio relazioni con il pubblico del municipio il proprio numero di cellulare. Grazie per essere stati con noi e alla prossima edizione. Grazie. 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 Grazie.